Raga calci di rigore, io non ce la faccio più Io non ce la faccio più, ve lo giuro E voi non avete idea di come cazzo? Si, 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 là, là Regà Regà, io non ce la faccio più, ve lo giuro, non ce la faccio più Poi vedete anche là in Priakka, siamo qui a Budapest Mamma mia, regà Mamma mia, regà Dai, 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 dai L'ultimo sforzo, vi prego, l'ultimo sforzo L'ultimo sforzo Allora, vediamo chi tira Dovrebbero tirare, secondo i pronostici Tristante Bove, credo, e Sarawi Tristante, Bove, il Sarawi Painandum e Belotti È uguale, è uguale, sono 5 e 5, sono 5 e 5 Mamma mia, regà Mamma mia, regà Che tira di loro, che tira di loro 1 a 0 per loro 1 a 0 per loro 1 a 0 per loro Dai, dai, dai Dai, dai Vacchi distante 1 a 0 per loro Vacchi distante Mai avrei pensato ad un epilogo del genere Regà Mai avrei pensato ad un epilogo del genere Mamma mia Mamma mia, che fatica Che brutto, poi sotto la curva loro Che brutto Dai, Brian Che brutto, poi sotto la curva loro È la mela È la mela Eric, te prego Eric, te prego Che palle, che palle, che palle Mamma cina Mamma cina Mamma cina Dove come c***o fanno così? Dai, Gelo No! Dai! questo è un nuovo guardo, lì va lì va questo è un nuovo guardo, regalo i bagnets, ma perché? ma perché stiamo a fattire i centrali? no, non è possibile, non è possibile non è possibile non è possibile, non è possibile non è possibile, non è possibile solo il pallone, è possibile anche i circle adores siamo Grazie a tutti. Mi toglierà qualcosa la vita, no? Mi toglierà qualcosa. Sì, 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 va bene, va bene, va bene, va bene, dai, 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 dai. grazie lui vabbè però dai vabbè però dai lo fa ripazzo no vabbè 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 no vabbè